Mi hanno comunicato dalla prefettura che c'era stato questo ragazzo che si era allontanato. Come è riuscito a fare il ragazzo? Evidentemente eludendo il controllo che è stato predisposto dalle forze dell'ordine. Non c'è un sistema H24, diciamo, di bianco? Sì. C'è, c'era ieri e c'è oggi, però nonostante è fuggito.